Ciao, sono Gabriele Medeot, ti do il benvenuto a questa nuova lezione di teoria musicale con incursioni nell'armonia. Parliamo dell'accordo di settima. Allora, un argomento davvero ricco di informazioni e che si possono leggere da molti punti di vista. La prima precisazione che vorrei fare riguardo all'accordo di settima è che l'accordo di settima è una quadriade. Significa che è un accordo formato da quattro suoni. Se dovessi e se volessi essere estremamente preciso, dovrei sempre utilizzare la parola quadriade, perché qualche volta definirlo accordo potrebbe trarre in inganno qualcuno, potresti pensare che sto parlando di una triade, quindi di un accordo formato da tre suoni. Ora, non è così, userò in maniera molto indifferente il termine accordo o quadriade, ma parlo sempre ed esclusivamente di un insieme dato da quattro suoni. All'interno di questi quattro suoni c'è una triade e c'è appunto l'intervallo di settima. Quando parliamo di settima sentiamo tante volte arrivarci l'informazione a una settima maggiore, settima minore, settima diminuita e major 7 e qualche volta abbiamo un po' di confusione. E allora questa lezione cercherà di creare un po' di pulizia, ma soprattutto cercherò di darti un po' di ordine, anche perché le informazioni tutto sommato non sono per niente tante. Sono decisamente poche e se le mettiamo in ordine riusciremo a capire, a destreggiarci nell'affascinante mondo della settima. Ora, prima di tutto ho scritto anche qui degli esempi. Naturalmente ci do, quindi do settima, o do major 7, quindi do maggiore settima. Poi c'è scritto do minore settima, do minore major 7, ci con questo simbolino che indica il semi diminuito, c semi diminuito major 7 e poi do quinta più, quindi quinta aumentata settima, qui do quinta aumentata major 7. Quindi un sacco di combinazioni, ma di base quello che noi dobbiamo conoscere sono i primi due, questo 7 e quel major 7. Allora c'è una regola, una regola che non dobbiamo mai dare per scontata e che anzi io voglio proprio sottolineare per quanto possa sembrare banale. Quando io su un accordo ho l'indicazione del 7, quindi quando c'è il numero 7 e non c'è niente altro che l'indicazione dell'accordo che devo fare, c7, d7, g7, ora significa che l'accordo è quello dato dalla lettera o dalla sillaba, no? Do, sol, mi, quello che è. 7 ti sta dicendo, guarda che devi fare la settima minore, non devi neanche pensarci, cioè un accordo di c7 è formato dalle note che costituiscono la triade di do, quindi c7, allora c7 è formato dalle note do, poi è formato dalle note mi, perché? Perché do, mi fanno parte dell'accordo di do e dalla nota sol, perché do, mi, sol sono le tre note che formano la triade di do, ma qui è chiesta la quadriade, è chiesto il numero 7, quindi la settima di do si sta riferendo alla settima minore, non devi avere nessun dubbio su questo, non ti puoi sbagliare, nella misura in cui non ci devi pensare, ma devo andare a scegliere? No, devo scegliere la settima minore di do, la settima minore di do è il si bemolle e quindi do, mi, sol, si bemolle sono le note che formano l'accordo di do settima. Quando a questo punto mi ritrovo a dover trasformare, a costruire un accordo diverso, perché? Perché mi viene chiesto major 7, ora c'è una, devo capire la differenza, la differenza fondamentale che c'è fra un accordo di settima e un accordo di major 7, quindi 7 o major 7, qual è la differenza fra le due? È molto semplice, 7 è la settima minore, major 7, come la parola stessa ti sta dicendo, è la settima maggiore. Quindi quando noi abbiamo quel major 7, ci stiamo riferendo all'accordo maggiore e alla settima maggiore anch'essa. Do major 7 è formato da do maggiore come accordo, cioè do maggiore. Questo major 7, il major si riferisce alla settima, come ho scritto qui, major 7, settima maggiore. Quindi do, allora avremo do, mi e sol e fin qua non ci piove. A questo punto la settima è una major 7 e quindi la settima maggiore sarà la nota si, non più si bemolle, si bemolle è la settima minore. C7, do, mi, sol, si bemolle. C major 7, do, mi, sol, si. Perché il major 7 si sta riferendo all'estremità dell'accordo fra do e si. C major 7. E questa è la differenza fondamentale. Capito questo, in realtà siamo in grado e sei in grado di costruire qualsiasi accordo di settima. Perché la differenza, lo ripeto, lo ribadisco e lo sottolineo è qui, è fra l'accordo di settima e l'accordo di major 7. Tutto il resto è relativo e deduzione. Ora vediamo infatti come dedurre perché abbiamo gli altri esempi. Do minore settima. Qualcuno potrebbe dire, ah ok, do minore settima, mi sta dicendo do, mi, sol, si bemolle, no? Cioè l'accordo di do è la minore settima. No, niente di più sbagliato perché do minore settima, attenzione che il minore si riferisce al do. Perché quando noi abbiamo la settima sappiamo che la settima è minore. Ecco che quindi le note che andremo a costruire sono le note dell'accordo di do minore, cioè avremo do, poi avremo mi bemolle e poi avremo sol. Infine aggiungeremo la nostra settima. Settima minore sempre si bemolle. Eccolo qua. Do, mi bemolle, sol, si bemolle e l'accordo di do minore settima. Il minore si riferisce al do. Solo il major si riferisce alla settima. E infatti sotto ti metto l'esempio. Abbiamo do minore, major seven. Do minore e poi però specifica major seven. Cosa vuol dire tutta questo mini tema? Significa che il do è minore e che la settima è maggiore. Do minore, quindi do, mi bemolle, sol e la settima maggiore. La settima maggiore di do è la nota si. Ed eccole qua, quindi sono ben diverse da prima. Do, mi bemolle, sol e si. Queste sono le quattro note dell'accordo di do minore maggiore settima. Quindi abbiamo da stare attenti a questi piccoli dettagli. Ora vediamo invece un accordo di settima apparentemente un po' più complesso che è questo. C'è l'accordo semidiminuito. Come vedi anche qui, io ho messo questa leggenda, no? Quindi del sette, settima minore, major seven, settima maggiore o il cerchietto tagliato semidiminuito. Un accordo molto particolare perché è un accordo che si trova, insomma, allo stato naturale, si dice così, sul settimo grado della scala maggiore. Questo poi è il voicing della scala maggiore. Ma noi stiamo cercando di capire come si costruisce un accordo semidiminuito perché potrei trovarmi nella situazione di dover suonare questo. Allora io mi ritrovo C e il cerchietto con questo taglio. Talvolta ha anche scritto dim, diminuito. Ora qui si crea e si innesca una piccola querelle fra la definizione diminuito, semidiminuito, l'armonia classica e l'armonia un po' più moderna, quella un po' più pratica. Ma in realtà parliamo di questo che è ciò che a noi interessa perché lo incrociamo ed è corretto. Do semidiminuito. L'accordo semidiminuito è molto particolare ed è molto specifico. Prevede la triade diminuita. Quindi la triade, l'accordo di do, è diminuita. Quindi diminuito significa che io ho do, mi bemolle perché ho una terza minore e poi ho il sol bemolle. Perché? Perché ho terza minore e quinta diminuita. Terza minore, lo scrivo, e quinta diminuita. Ecco perché l'accordo è diminuito. Ma quando noi parliamo di semidiminuito significa che parliamo di un accordo che ha quattro suoni. Quindi ci manca la settima. Quale settima dobbiamo mettere in questo caso? La settima deve essere minore. La settima minore forma l'accordo semidiminuito. Quindi la settima minore di do è si bemolle. E quindi io vado a scrivere si bemolle. Eccole qua. Do, mi bemolle, sol bemolle, diminuito. Si bemolle, settima minore. Quindi lo scrivo settima minore. D'altra parte, se ci pensi, quando io vado a costruire un accordo di settima, quindi con il sette, di default ragiono sulla settima minore. Ora, l'accordo semidiminuito non mi sta chiedendo nello specifico quella settima. Perché? Perché è inclusa, è dentro. Mi sta specificando. Guarda che l'accordo sarà diminuito. Quindi terza minore, quinta diminuita. E la settima, come sempre, metti la minore. Quindi terza minore, quinta diminuita, settima minore. Eccolo qua. Un accordo apparentemente complesso, ma più da spiegarti che da provare a farlo. La settima minore su un accordo diminuito. Questo è il tuo intervallo semidiminuito. La tua quadriade si indica con questo simbolo. Questo simbolo che però può essere naturalmente aumentato e può essere modificato in questo modo. Cioè tu puoi avere la scrittura, l'accordo di do semidiminuito, ma ti chiedono il measure seven. Ora, dovresti già sapere come fare. Perché do semidiminuito measure seven implica il fatto che in realtà io sto facendo do, mi bemolle e sol bemolle. E a questo punto però la settima è measure. Measure seven, settima maggiore, settima maggiore di do. Cioè la nota si. Eccolo qua. E quindi ho do, mi bemolle, sol bemolle. Questa è la mia triade diminuita. Triade perché sono tre suoni. Ma la quadriade, semidiminuita con la settima measure, cioè significa che ho la mia accordo diminuito e la settima è maggiore. Ma adesso andiamo avanti e vediamo anche gli ultimi due esempi che mi posso ritrovare a dover suonare, armonizzare molto spesso. Cioè l'esempio di do cinque più, che quindi sai già che stiamo parlando di un accordo aumentato, sette. Abbiamo tutte le informazioni per costruire questo accordo. Do cinque più significa che io avrò do, avrò mi e avrò sol diesis perché è aumentato. Sette, la solita regola. Sette è minore, quindi minore, ed è la settima minore di do. Quindi avremo il si bemolle. Do, mi, sol diesis, si bemolle. Accordo molto dissonante, molto, molto difficile da riprodurre, da inserire, ma questa è teoria. Cioè questo è ciò che noi andiamo a costruire per poi poter anche modificare e soprattutto sostituire. Perché poi da qui il prossimo passo è quello delle sostituzioni, cioè del come vado a chiamare da un punto di vista enarmonico gli stessi suoni, le stesse note. Un si doppio bemolle che diventa la. Questi sono argomenti di enarmonia di cui ci sono delle lezioni sul canale se vuoi andare a vederli. Ma vediamo ancora questo ultimo interessante accordo che andiamo a costruire. Un accordo di do quinta più major seven. Quindi do quinta più major seven anche qua. Le hai tutte le informazioni. Do quinta più abbiamo do, mi e ovviamente sol diesis, major seven, la settima maggiore di do. Quindi il si. Si naturale, quindi non più si bemolle. Do, mi, sol diesis, si. Quindi ci sono veramente una possibilità notevole di incastri. Questi incastri danno vita alle combinazioni dell'accordo di settima. L'accordo di settima che si indica di base con il sette e se vogliamo un accordo minore ci mettiamo un minus, accordo minus sette. Se vogliamo un accordo eccedente aggiungiamo accordo cinque più e poi il sette e definiamo major, se quella settima deve essere maggiore. Ma possiamo avere anche la settima maggiore in un accordo maggiore di standard, di default. Quindi C major seven, accordo maggiore settima. Ora, quando questo accordo, l'accordo di settima, quindi l'accordo di settima, C7, questo è molto importante. Quando questo accordo scritto così, qualsiasi accordo sia naturalmente G7, F7, E7, indifferente, ma è l'accordo di settima. Quindi, fondamentale, terza, quinta, settima minore. Fondamentale, terza, quinta e settima minore. Quando noi abbiamo questa combinazione e questa combinazione è, attenzione, sul quinto grado della scala, questo si definisce accordo di settima di dominante. Quindi, che cos'è la settima di dominante? Non è altro che un accordo di settima, quindi accordo maggiore e settima minore, costruito sul quinto grado della scala maggiore. È tutto qua. La settima di dominante, che comunque dà vita a intere pubblicazioni, interi schemi, interi metodi da studiare, perché bisogna capire come risolverla e di quello parliamo nella lezione sulla settima di dominante, parleremo nella lezione sulla settima di dominante. In realtà, quando io utilizzo un accordo di settima, quindi triade maggiore, settima minore, sul quinto grado di una scala maggiore o minore, quella è una settima di dominante. Tutto il resto è dato dalle specifiche, dai numeri, dalle indicazioni, dagli aggettivi. Measure seven, ricorda, è la settima ad essere maggiore. Accordo minus seven è l'accordo a essere minore. Sono dei codici, sono dei codici importanti che devi memorizzare. Il cerchietto tagliato indica che la triade è diminuita e la settima è minore. Tutto il resto è deduzione, è conseguenza. Non hai grandi possibilità. Un accordo aumentato ti viene chiesto in modo molto semplice di farlo. Ci ti dicono cinque più. Un accordo con altre sostituzioni verrebbero indicate. Un accordo con il numero quattro vorrebbe dire un accordo con anche il quarto suono. I numeri indicano sempre i suoni che devi utilizzare nel tuo accordo. Bene, allora questa era una lezione che ha cercato di fare un po' di chiarezza, di mettere un po' di ordine nelle tue informazioni riguardo a questo famigerato accordo di settima. Spero sia stata chiara e soprattutto che ti possa essere di aiuto. Ti invito a lasciare dei commenti qui sotto al video. Magari se ti piace ti puoi iscrivere al canale o lasciarmi un messaggio. attivare la campanella per avere le informazioni. Grazie per aver guardato questo video e ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!